Siriusdisco.com Ciao Nottambuli, io mi sento molto libidinoso, sapete perché? Diciamo che è quasi una doppia libidine, Gerry che è là. Fa tappa qui nel Sennio, Benevento, precisamente in Valle Caudina, Montesergio, Siriusdisco, venite a vedere il suo live show. Siriusdisco, buonasera, buonanotte. Nottambuli, questa notte il Sennio doppia libidine, anzi libidine con i fiocchi. Gerry un saluto a questi Nottambuli scalmanati che ti hanno guardato e ti hanno ammirato tutta la notte. Io veramente sono estasiato dal pubblico della campagna, ogni volta che vengo a fare i tour qua è una festa, la gente mi vuole bene, sono contentissimo e ci vediamo presto. Un bacio di quelli carnali alla Gerry Calac... Non sono bello, piaccio. Hola Nottambuli, Gerry Calà, Siriusdisco.com, Montesergio, Benevento. Loro sono quello che hanno dato la magia, coreografata molto ma molto oasi, perché dico oasi, ve lo spiego dopo. Lei chi è? Veronica. Lei invece? Robby. Angelo. Con Ray Matteo è... Potete dare di più, secondo me, secondo me, si può dare di più. Si può dare di più, e no, e niente di noi, si può dare di più, senza essere eroi. Non è male, non so, non lo sai neanche tu, ma chi c'è, non ti può dare di più. Bravo! Noi rappresentiamo le zingale e c'era la nostra collega che leggeva le carte, il futuro e noi le mani. Non sono bello, piaccio. In tutta questa bolgia di divertimento notturno, a voi cosa piace e cosa non piace del mondo della notte? Ci piace divertirci con le persone, non ci piace quando se ne approfittano. Quando non capiscono dove finisce il divertimento e inizia... Non sono bello, piaccio. Mi raccomando, se volete trovare ossigeno, acqua, insomma, divertimento, l'Oasi è quella di Titti, questa qui. Notambuli, io sono, come dire, un pacchetto molto libidina con i fiocchi, ma non perché questa notte c'è stato qui Jerry Calal Series, ma perché sono riuscito finalmente ad avere, ti puoi allargare con il campo, allargatevi, eccolo, ti stanno vedendo. Lino Carbone dal Series Disco. Innanzitutto buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Lino, io ne volevo approfittare perché so che tu ci tieni per chiederti innanzitutto come si sta comportando la nuova organizzazione artistica, o meglio direzione artistica, virgolettando, come si usa dire, in gergo per gli addetti ai lavori, con te in questa nuova avventura, non soltanto dal punto di vista architettonico del locale. Beh, questa organizzazione ha quell'entusiasmo che aveva la Musa ai primi tempi, che ha collaborato con me i cinque anni, quindi questo mi fa molto piacere e mi dà solamente impulso per farli lavorare bene. D'altronde i risultati si vedono con questi ragazzi. D'altronde i risultati si vedono con me i cinque anni, Tu hai anche citato la Musa, voglio dire che questo è un atto che fa onore a un proprietario di un locale, ad un imprenditore del mondo della notte che non dimentica tutti quelli con cui ha collaborato. Certo, io sono venti anni che faccio l'imprenditore e posso dire che ho collaborato sempre per diverse stagioni, con diverse organizzazioni. Non solo bello, piaccio. I giovani sono importanti per me, per farmi vivere ancora molto, io ci tengo tantissimo. Loro sono molto veramente entusiasti, questi nuovi collaboratori. Semplicemente un saluto a tutti i nottamboli tv e a tutti i nottamboli che ci guardano attraverso questo piccolo format. e l'invito da parte di Rino Carbone al Sirius Disco. Bene, vi innovo l'invito anche nella nuova stagione estiva a venire all'aperto. E vi saluto tutti cordialmente. Grazie, grazie Antonio. No, grazie a te, io devo chiudere però così. www.siriusdisco.com Non solo bello, piaccio.